Vediamo i risultati degli incontri svolti per la terza giornata di campionato di eccellenza Sicilia, Gironea. Alba Alcamo, Dattilo Noir 0-1, Città di Casteldaccia, Canicatti 0-2, Licata, Camarat 2-0, Mazzara, Centro Universitario Sportivo Palermo 0-1, Mussomeli, Morreale 0-1, Parmon, Vallatletico, Campofranco 1-1, Polisportiva Castelbuono, Marsala Calcio 0-1, Profavara, Nuova Città di Caccamo 0-1. Vediamo adesso la classifica. Dattilo Noir, Licata, 9 punti, Canicatti e Marsala Calcio 7, Centro Universitario Sportivo Palermo 6, Parmon, Vallat 5, Alba Alcamo 4, Atletico Campofranco 4-1, Nuova Città di Caccamo 4, Città di Casteldaccia 3-1, Mazzara e Morreale 3, Camarat 1, Polisportiva Castelbuono, Profavara e Mussomeli 0 punti. Vediamo infine gli incontri del prossimo turno. Campofranco Licata, Centro Universitario Sportivo Palermo Alba Alcamo, Canicatti Parmonval, Dattilo Noir Castelbuono, Camarat Mussomeli, Marsala Profavara, Morreale Mazzara, Caccamo Casteldaccia.